Siamo al Daio. Sì, siamo al porta. Allora, adesso siamo dentro al porta a Yokohama. Adesso si vede se stai qua, guarda. Stiamo andando a prendere il traghetto per andare al Red Brick House, ovvero la karinga in giapponese. Andremo là, dove ci sta, in poche parole, un'Octoberfest in primavera. Ecco, qui c'è gente che fa timbrini. Siamo andati a mangiare in un ristorante e io ci ho andato con una settina con degli spazi buoni e non capivano. E poi andando in giro e abbiamo visto che ci sono questi barbuntini con i timbrini in acqua. Quindi il gelato lo volete mangiare o no? Io no. Ok, andiamo a mangiare il gelato. La mia volontà non ha assolutamente valore. Ebbene, qui noi siamo la maggioranza. E la maggioranza vince sempre. Adesso... Entriamo al Sogo, che lo vedete qua. Questo, dove andremo a mangiare il gelato. E niente, ci vediamo dopo. E dopo aver preso un buonissimo gelato italiano, andiamo a prendere il Sibas, ovvero il traghetto che ci porterà da Carenga a Minato Mirai. Ok, adesso siamo su Sibas. Sto passando un altro traghetto. Facciamo ciao, facciamo ciao. Questo è bellissimo. Ciao! Ciao! È divergete, perché c'è il tramonto e si vede belle cose. Siamo arrivati e ci vediamo. Ci stanno facendo ciao da gente che vuole salire al corso nostro. Dovremo stare ancora seduti, ma ci alziamo lo stesso. Siamo arrivati. Inizia a avere freddo però. Sta freddo. Fammi fare la cosa romantica. Oh, ma grazie. Che bello. Che bello. È però caldo, caspiterina. Aspetta, prendilo di là. Aiuto, aiuto. Mettitelo bene dopo. Nia, nia, nia. Grazie. Ok. Aiuto, guardate che bel cielo blu. Vabbè, non mi interessa chi se ne frega. Io ve l'ho fatto vedere lo stesso. Dato che negli ultimi tempi ho solo parlato del tempo. Quindi dopo 20 volte che ho registrato col brutto tempo, ecco finalmente un bel cielo blu. Ok, fine. Punto. Corso fuori tema. Finito. Fico, saltiamo sui gonfiabili. Quelli da Terentino, te, Germania. Bellissimi. È l'October 1, invertire primaverine. Fico, andiamo dentro le palle. Sto brutto da dire ma quelle palle. Voglio entrare in quelle palle. Però sarà solo per i bambini probabilmente. Probabilmente c'è il limite d'età. Oh, capico. Figo, saltiamo per aria, però lo dobbiamo fare dopo aver bevuto la birra. Ed eccoci al Frühlingsfest, perché c'è meno gente che quello estivo, cioè quello estivo, ottobre, però comunque il tempo è quello estivo, perché naturalmente è autunno, ma ottobre fa caldo come se fosse estate, dipende da dove vai. Qua l'ultima volta era come se fosse estate, quindi c'era molta 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 più gente. Comunque figa com'è posta, qui si stanno i rifiuti, lo stand dei rifiuti, lo stand del non si sa cosa, lo stand dei souvenir, lo stand, qua cosa ci stanno, bandiere, souvenir anche qua, maglie. Qua ci stanno scarpe. e ho beccato tardi, però volevo farlo spogliarello tipo... attraverso il nostro amico. Mi sto vestendo come il film in Cannes e la musica del mio blog. Che cosa che mi gustano, oh madonna, cheese land, cheese land, lì ci sono i dolci figo ci sono i waffo, le ostriche e le cozze, 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 che buone, ci sono alcune zone dal Germania che fanno le cozze, mo mangiamo, ci sono i cocktail, stanno qua, ci sono i cocktail, ci sta la fila, entriamo dentro questo capernone, questi così dritti che non so cosa sono, e c'è un botto di negozietti, adesso entriamo qua, no, non entriamo qua, andiamo un po' più avanti. Grazie a tutti Era una foto, ho fatto una luce, no, è un video, scusatemi, mi sono un po' ubriacata, non ho ancora toccato il bicchiere, ma ormai è sera, io divento sempre ubriaca la sera. Quindi niente, questo è il nostro cinque, e siamo, come puoi vedere, là dietro, dietro di lei, lei, Vanessa, no, perché io sono proprio pessima con i nomi, eh, ci sta le lucine, ci sta la frega, e da dentro c'è il capallone dove fanno musica, al momento musica non l'abbiamo ancora sentita, non c'è musica, ma non c'è nessuna band sul palco al momento, quindi, vabbè, a dopo. Dopo aver ben bevuto, si ricorda Yokohama. Ok, non siamo più. Grazie a tutti.